E dal Piemonte facciamo rientro in Puglia, stamattina Maria Pia siamo in giro per il bel paese, che fortuna che abbiamo di essere nati in Italia, dovunque ti giri bellezza, meraviglia, stupore. Che meraviglia, quasi quasi anch'io mi allungo su una citazione, ovunque il guardo io giro, mio Dio ti trovo. Che bello Maria Pia, grazie per questa città. Stamattina, siamo così, stiamo già stancando i telespettatori. No, direi di no, telespettatori siamo convinti che invece vi stiamo facendo un buon servizio e tornando in Puglia, tanto più perché appunto tornando in Puglia parleremo in realtà di un evento nazionale, appunto, quello della merenda nell'Oliveta, giunto alla sua quarta edizione. E noi ne parliamo col segretario regionale del coordinamento della Puglia, città dell'olio, Vanni Sansonetti. Buongiorno Vanni, ben trovato. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora magari ecco i nostri telespettatori potrebbero chiedersi, ma perché parlare di olivi, di oliveti in questo periodo dell'anno? Non si raccolgono mica le olive? Io una risposta ce l'avrei, ma già che sei in collegamento con noi, Vanni, chiederei a te di spiegarci che cos'è Merenda nell'Oliveta. Sì, la Merenda nell'Oliveta è un'iniziativa nazionale in cui in Puglia ci saranno più di 20 appuntamenti dal Gargano al Salento nei mesi di maggio e giugno. È un'iniziativa che stimola lo stare insieme, stimola lo stare a contatto con la natura, nella fattispecie nelle olivete. Ecco, come dire, rispondo così anche alla tua domanda, perché stare all'interno dell'Oliveta significa apprezzare questo territorio olivetato che caratterizza in particolar modo anche la Puglia. È una forma di olioturismo anche questa. Si sta insieme, si degustano gli oli, si impara ad apprezzare gli oli evo di qualità, le differenze, ma si sta anche a contatto con la natura facendo un'attività non proprio stanziale, ma comunque con un'attività fisica. Quindi quest'anno puntiamo appunto sul mental wellness, che è il tema delle nostre merende in cui appunto in tutta Italia si svolgeranno. Intanto prego la regia di condividere alcune delle immagini che ci restituiscono quello che succede appunto nelle olivete di tutta Italia. Invito già anche in questo caso a seguire la pagina ufficiale della manifestazione perché plasticamente anche attraverso dei grafici ci restituisce quello che succede di regione in regione, di giorno in giorno. Sono tanti gli eventi. Puglia protagonista, come diceva Vanni, con 23 città dell'olio, ma in tutta Italia ci sono appunto eventi per cui merita seguire questa iniziativa. In Italia abbiamo, Vanni me lo potrà confermare magari con ulteriore precisione, oltre 500 cultivar di ulivi che danno vita all'olio extravergine d'oliva, appunto uno dei nostri prodotti più preziosi sul versante agroalimentare. L'olio generalmente si produce in autunno, ma questo è un periodo anche meraviglioso perché c'è nelle olivete la cosiddetta mignolatura. Mignolatura. Che cos'è Vanni la mignolatura? Sì, beh, è la fluorescenza, insomma, i primi fiori sono i prodromi di quello che sarà la produzione del prossimo anno, ovvero quella che in autunno raccoglieremo. E quindi c'è tanta aspettativa da parte dei produttori, tanta ansia anche per la verità, ma anche quest'anno si è abbastanza fiduciosi. Noi come città dell'olio cerchiamo di sviluppare all'interno di quello che è un contesto, diciamo così, agricolo, uno sviluppo anche turistico di valorizzazione dei territori, perché associate alle merende a queste iniziative, come la camminata nell'ultima domenica di ottobre, serve appunto a mettere in connessione il territorio, da un punto di vista paesaggistico e quindi delle olivete, a quello culturale, a quello dell'escursionismo, a quello, insomma, una conoscenza a 360 gradi dei territori olivetati, delle città dell'olio e serve appunto a fare un focus particolare e, come dire, la commissione di questi due elementi fanno sì che entrambi si valorizzano. Ecco, gli appuntamenti in Puglia sono molto vari e trovano anche degustazione di prodotti del territorio, ma anche cose particolari, corsi di uncinetto, cioè tutto quello che è connessione con la cultura del territorio. Ecco, un modo per stare insieme, per riposare la mente in questo nostro territorio di una bellezza, insomma, che tutti ci invidiano e che tutti conosciamo. E che è giusto valorizzare il scopo appunto dell'evento, perché poi la cultura, come dicevi tu, genera consapevolezza. Una consapevolezza che è importante sempre, in qualsiasi ambito, in maniera particolare anche nel campo dell'olio extravergine d'oliva, perché poi c'è un paradosso, se mi consenti. Siamo uno dei paesi europei, uno dei paesi al mondo, che produce non solo più olio extravergine d'oliva, ma anche appunto olio extravergine d'oliva di qualità, ma tante volte non sappiamo riconoscerlo. Certo, questo è un tema, quello della formazione e della conoscenza, su cui, devo dire, in molti si approcciano e si battono. Noi abbiamo, per esempio, come attività nelle città dell'olio, il concorso Bimboil. Altro non è che, fin dalle scuole di primo grado, far approcciare i ragazzi a riconoscere un olio evo di qualità. Quindi l'intensità, i profumi, il verde che si deve sentire, i profumi di fondo, di carciofo, di mandorle, di foglie di pomodoro, cioè tutti quegli elementi olfattivi che ci fanno dire che quell'olio è di qualità. Ovviamente serve appunto per dare consapevolezza a un prodotto che è espressione forte del nostro territorio, di una cultura che sempre più progredisce, anche da un punto di vista tecnologico, per darci un prodotto finale sempre migliore che, se è prodotto appunto a determinate condizioni, può risultare addirittura nutraceutico. Ecco, quindi l'olio extravergine d'oliva autentico deve avere questo profumo di erbaceo, di fresco. Tante volte non dobbiamo preoccuparci se risulta leggermente piccante o amaro, perché quello... Ah, è un fattore assolutamente positivo. Esatto, e ci tenevamo a ribadirlo proprio perché, ecco, facciamo un buon servizio anche così e siamo certi che... E mi raccomando a conservarlo sempre in bottiglie scure, in assenza di ossigeno e alla giusta temperatura, né troppo caldo né troppo freddo, perché così si mantiene bene un buon olio extravergine d'oliva. Anche perché, grazie Vanni, grazie per l'ulteriore precisazione, perché giustamente un olio poi deve durare almeno un anno, da una raccolta all'altra. E a questo proposito, anche per aiutarci a conoscere meglio gli oli, voglio ricordare ai nostri amici telespettatori che non esiste solo il sommelier del vino, quando parliamo di sommelier l'associamo spesso, assolutamente, cioè in maniera quasi esclusiva alla figura del vino, ma ci sono anche i sommelier e gli assaggiatori dell'olio che ci aiutano appunto in questo viaggio di scoperta dei migliori oli extravergine d'oliva. Vero Vanni? Sì, sì, esiste un albo al Ministero delle Politiche Agricole, insomma, un albo ufficiale degli assaggiatori, si fa un percorso e quindi, diciamo, si viene riconosciuti a riconoscere appunto gli oli evo di qualità, anche da un punto di vista, come dire, merciologico, quindi nella distinzione tra olio extravergine d'oliva, olio d'oliva, e questo è un buon servizio, insomma, per garantire la qualità del prodotto. Molto bene, quindi quando dobbiamo andare a cena da amici e parenti, non portiamo solo vino, ma portiamo anche una bottiglia di buon olio extravergine d'oliva, senza dubbio faremo un bel regalo a chi andiamo a trovare e ecco, compriamo anche dai nostri produttori locali facendo attenzione a quello che abbiamo detto. Vanni, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi stamattina a parlarci della... Grazie a voi per chi intende, insomma, venire in Puglia o in Puglia e spostarsi, merendenelloliveta.it, il nostro sito, ci sono le schede regione per regione, città dell'olio per città dell'olio, con tutti i programmi delle singole merende, di mattina, di pomeriggio, di sabato, di domenico, nei festivi, per cui partecipate, ci farà molto piacere. Vi troviamo anche sui social, come dicevamo prima, per cui reperire le informazioni non è difficile e quindi entriamo in questo fantastico mondo dell'olio extravergine d'oliva che è ancora tanto da insegnarci, c'è ancora tanto da scoprire. Grazie ancora a Vanni Sanzonetti, segretario regionale del coordinamento Puglia, città dell'olio. Vanni, allora, buone merende a te! Grazie e buona giornata a voi tutti!